Siamo al dribbling in via Ximenez a Grosseto, stasera giovedì 13 ottobre 2011 Questa è la prima uscita con un aperitivo completamente vegano che riusciamo ad organizzare qui a Grosseto Associazione di idee, Tecno Terra, Sound System insieme al dribbling Grosseto Abbiamo allestito una selezione di cibi di vivande al 100% vegetali Notiamo come un gusto, le persone stanno apprezzando tantissimo l'esperimento Per noi in qualche modo a coronare l'idea di espandere la nostra agenda di attività A volte la sensibilizzazione rispetto alla dieta non basata solo in animali che stiamo proponendo alla città negli ultimi mesi E' ancora molto presto, sono le 7.30 della sera Abbiamo allestito il nostro Sound System Come abbiamo fatto di consueti per molti mesi qui in questo locale Questa sera appunto la peculiarità è che l'emfasi è posta sulla scelta del menù Ci auguriamo che possiamo ripetere l'esperimento almeno un giovedì al mese qui a dribbling e dare così la possibilità a tutte le persone che presentano questo posto di poter misurare con quelli che sono i parametri nell'alimentazione e nella degustazione di ottimi cibi a base totalmente vegani Abbiamo preparato una serie di primi, secondi Questo che abbiamo sul banco di adesso è l'antipasto Abbiamo sparsi per il locale un po' della nostra letteratura e dei nostri manifesti Un bello scorcio della grosseta notturna Uno scorcio della bella grosseta notturna E' il bar dribbling Il primo aperitivo vegano in questa città Per essere un giovedì c'è già diversa gente Molto presto quindi siamo davvero soddisfatti almeno per ora Eccoci qua Ora prima ım Diputere Eccoci qua